Cominciano i salvi anche a Torre del Greco. Gli attesi sconti erano stati posticipati a causa dell'emergenza coronavirus. Lo shopping estivo sarebbe dovuto iniziare direttamente il 1 agosto, ma dopo numerose proteste ai commercianti, la data è stata anticipata ad oggi. I saldi, tuttavia, sono partiti in sordina per i cittadini torresi. Molti negozi non hanno ancora nemmeno esposto i soliti cartelli con le offerte. I consumatori non sembrano a loro volta propensi a giri di acquisti particolarmente ampi. A causa della crisi degli ultimi mesi e dell'incertezza economica, molti sfrutteranno i saldi per comprare soltanto poche cose necessarie. Si aggiunge, inoltre, che molti non sono nemmeno a conoscenza dell'inizio degli sconti.